Questa campagna elettorale si è trasformata in una bolla propagandistica finalizzata a distrarre gli abruzzesi dal merito delle scelte del 10 febbraio. Così Giovanni Legnini, candidato alla carica di governatore, commenta la parata abruzzese di big politici ed esponenti del governo nazionale in vista delle elezioni regionali. Maschera è una profonda crisi politica che si sta consumando a Roma, le 5 Stelle litigano a Roma e proiettano sul loro campo di battaglia che è l'Abruzzo, i loro conflitti, maschera le divisioni enormi che ci sono nel centro-destra che loro provano a ricomporre, occultando, nascondendo qual è la posta in gioco in Abruzzo, chi farà il Presidente. Se stanno sempre qui hanno impiegato quasi 50 giorni del tempo che avrebbero dovuto dedicare al governo, agli interessi nazionali perché animano una campagna propagandistica tutta nazionale. Si parla di TAV, di caso 18, non si parla del futuro dell'Abruzzo di cui abbiamo parlato noi e che saremo noi nelle condizioni di interpretare. Dopo dell'11 febbraio non vedremo né Salvini, né Berlusconi, né Meloni, né Di Maio, né Di Battista, né nessun altro perché più sarà la crisi di governo dopo l'europeo, lo sanno tutti, e loro per occultare fallimenti e per occultare questi ormai rischi concreti di crisi trasferiscono le loro ansie sul territorio abruzzese. Lei ha detto che questa bolla propagandistica di questa campagna elettorale denota anche uno scarso senso delle istituzioni, la cosa che l'ha disturbata di più da candidato qual è stata? Se viene un ministro, se viene il massimo responsabile della sicurezza nazionale, se viene chi guida la scuola, l'università, la sanità, dovrebbe evitare di fare passerelle, assumere impegni perché nella nostra regione ci sono sofferenze, ci sono aspettative, ci sono problemi da risolvere, c'è il rischio immanente di infiltrazioni malavitose. Di questo dovrebbero occuparsi, non di sostenere un'improbabile candidatura come quella di un senatore romano il quale aveva annunciato le dimissioni, ma di dimissioni nessuno ha saputo più nulla. Noi abbiamo presentato solo progetti concreti, siamo portatori di un progetto forte, affidabile, credibile. Stiamo producendo una forte risalita, fortissima, che sono convinto ci porterà alla vittoria. Grazie a tutti.